Buonasera! Dopo tante indagini finalmente una meritata vacanza per il commissario Rovacchiti Era una fresca mattina di primavera i primi raggi del sole che lambivano di sbieco Villa Brambilla Con una cortele in talcora Bevo con un coltè? No! Con la fornetta del telefono! Buonasera! Ci senti una cornetta dal telefono? Eh, magari senti una cornetta Senta che ho due d'energia negativa c***o di te! Andiamo a volare di te! C'è come? E concentrare Per l'ora L'ho esposata? Eh, l'era da di Dio Eh, per il mister Caffaiga No, no, per la ghiglia calgata Eccola Ammo! Grazie a tutti! Commissario Ora! Ora, lasciamo sapere l'energia! Chi può casetta? Chi pensa un casetta? In questa? Per me Perchè tu più imbranèi tu hai perduto Perchè? Perchè?